Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Stefano Tacconi è ricoverato nel reparto di neurochirurgia nell'ospedale di Alessandria dal 23 aprile, per via di una emorragia cerebrale causata dalla rottura di una neurisma. La situazione è ancora stazionaria. Tacconi è farmacologicamente sedato, ma ha dato qualche segno di gesto finalistico. Il percorso sarà lungo e i prossimi giorni saranno determinanti per capire l'andamento della situazione. Hanno spiegato i medici. Sicuramente il fattore tempo è stato fondamentale. Si legge ancora nella nota a firma dei due direttori. Aver riconosciuto il problema e aver centralizzato le cure, trasferendo il paziente in un ospedale hub, ha fatto la differenza per un intervento precoce al fine di evitare una seconda emorragia che sarebbe potuta essere fatale. Ora dobbiamo dare tempo a Tacconi di combattere, grazie alle cure che sta ricevendo in terapia intensiva, e affrontare con forza i prossimi giorni. Il malore improvviso di Stefano Tacconi sta tenendo tutti con il fiato sospeso. L'ex portiere è stato ricoverato d'urgenza sabato scorso dopo che è stato colpito da una emorragia cerebrale. Al momento le sue condizioni sono stabili. Così ha fatto sapere il figlio Andrea Rai Sport ieri sera, spiegando anche le cause del malore. In questo momento è stabile ma in coma farmacologico. Ha fatto un attac nel pomeriggio e non ci sono particolari problemi. L'emorragia di sabato è stata fermata e adesso dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, muove un po' gli occhi e gli arti, ma serve tempo. Il malore è arrivato dal nulla, è iniziato un mal di testa poi è sceso dalla macchina ed è caduto a terra. Grazie per la visione, iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato!